Adesso mi sistemo anch'io tutto bene, tutto comodo, puoi appoggiarti indietro con la schiena sull'uomo ti chiedo una cosa, guarda la telecamera se la peggia, girati la scimmela peggia? si si ok allora sta riprendendo è una figata è bello se siamo in termica, senti l'ultimo che suona e andiamo un po' dietro cerchiamo il cotone perché il cotone legge con la barriera, con il tempo nuovo Laura dentro sono le scritte e ve le personalizzate si, per favore un'altra io non ho scritto bene si sembra che lo faccia da una gitarra vero? si, non all'inizio è prima terminata ma poi si, esatto, nel decollo che è vero non guardare il display non dico per te neanche per me perchè mi cominciato eccola qua adesso facciamo un giro in questa vita di città la scussiamo ma davanti andiamo ok abbiamo fatto un po' di quota vediamo allora sono che a posto? è la grande la cosa che ho pronunciato di volte all'aereo quindi è mai diverso qua assomiglia più al mal di mare che al mal d'aria vediamo 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 abbiamo 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 girato intorno in modo da starci dentro un po' e guardiamo così in realtà l'onda qua è molto lunga perchè se tutta questa montagna è proprio dove si faccia fuori tu riesci a riconoscere dove è il lido inizia un po' di vediamo il cammino non so io dove guarda vediamo davanti a te il parovino bianco il volo sulla Cresta Dove finisce il fratto e inizia il controllo? Sì, dove finisce il fratto? Adesso l'aeroquettacolo delle montagne Hai il risetto? Ciao Laura Vieni, vieni! 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 In Calabria c'è solo uno. No, devi andare a... Spraia! A Spraia, è vero. Però praticamente sono troppo... Mi ricordo, il Maracardino. Sì, sì. E c'è da dove vuoi volare che l'unica in Calabria è la nostra parte. Sì, sì. Sì, ma... Siamo in un mondo più uniti, ma alla fine ogni club vive... e fa conto proprio, sì, quindi... Quanto prezzo è un fatico? No, 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 no. Un po' di più di traccia. No, 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 no. No, 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 no. Siamo iniziati a compiere i magnosi. Tra un po' dobbiamo sentare la cera serrati. Questa è quella che si rompa a casa, ma... No, deve essere un po' di più, ecco, vedo quanto. Qui avanti... Dove finiscono le case. Ci dovete vedere anche una giostra. Sì. 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 Sento prendo me Sei a casa? Eh, affacciato il battone nella tua stessa Guarda, sallo è ruolo Della tua, no no no, di quella che sta a formare Dalla sinistra che sta a formare sul balcone Da dove è giocata a casa Ma qua è sveglio che ha pure lui Vedete? Eh, adesso guardate in alto e vedete il sparacadute Giallo è rotto Vedete? Vedete? Vedete che stiamo passando Sopra di voi Sopra di voi mamma Sopra di voi 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 Vabbè, dai mamma che ci mettiamo dopo che chiudo Chiudo? Ci mettiamo dopo 5 minuti 5 minuti signora Sopra di voi Sopra di voi Sopra di voi Sopra di voi 주�mmenLY Fammi vedere meglio io questa fuori Per uscire, questiалиcro E gioco gli ostacoli Direi che annotationi ormai Vedete dove si alquilisca Ormai Sopra di voi l'ho buttato in avanti perchè sennò tu mi siedi nel bersama appena tocchiamo la terra ci giriamo verso il parapendio che altrimenti ci trascina indietro perchè è grande quando toccata la terra è grande ok sono in piedi anch'io tutto bene avanti ci giriamo verso il parapendio fermo così lo assecondiamo finché cade benvenuto grande casco taglio di casco perché c'è una cosa da fare immediatamente per questo sorriso qua grandi ragazzi bellissimo stupendo stupendo